Nasce una app per tenere i giovani lontani dai rischi e dalle trappole del web. Sentiamo Michele Giordano. Il 53% dei giovani del territorio dell'Asl Napoli 3 Sud è dipendente dalla rete, mentre il 23% ne fa un uso apertamente rischioso. Dati che evidenziano come ragazzi spesso chiusi in un isolamento patologico cadono in una dipendenza dai social che richiede anche l'intervento dei dipartimenti di salute mentale, come avviene per altre dipendenze, droga o alcol. Per aiutare i giovani a stare lontano dai rischi della rete è nata un'app denominata Dico a Te, promossa dalla cooperativa Primavera in partnership con l'Asl Napoli 3 e i comuni di Castellammare e Sant'Antonio Abate. È un esempio virtuoso di collaborazione tra strutture pubbliche e il privato del terzo settore. D'altra parte lo stesso privato sociale, in questo caso, può maturare ulteriori esperienze da questa proficua collaborazione. L'app è strutturata in questo modo. Abbiamo una home page, è possibile scaricarla sia su App Store che su Play Store. Abbiamo un modulo dove è possibile compilare il questionario. Il progetto si rivolge ai ragazzi dai 13 ai 24 anni ed è finanziato da Fondazione con il Sud. Un sito, internet e un blog permetteranno una costante informazione sui temi del web, tra rischi e opportunità. Uno sportello altamente qualificato si occuperà dei ragazzi con necessità di diagnosi e cure. L'obiettivo del progetto è quello di costruire una buona prassi di cura che possa essere poi replicata ad altre realtà.